Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno... Progetto Culturale La Nostra Ischia Benvenuti nella Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto. Mi impegno tutto il giorno... Vivicentro TV Lucia Annicelli Bruno Mancini Sia solo una battaglia Roberta Parisi Antonio Mencarini Mi ritrovo a passeggiare Luciano Somma Katia Massa Nunzia Zambardi Sascha Savastano Enzo Boffelli Vi presentano l'antologia poetica Ischia, mare e poesia e vi augurano una piacere sera. Che sei passata in fretta come un sogno che avevi cancellato la tristezza. Buonasera a tutti, benvenuti in biblioteca per questa occasione espressamente rivolta diciamo alla poesia, ma la poesia intesa attraverso diverse forme, attraverso l'arte, attraverso il teatro perché avremo anche, abbiamo anche avuto ieri, abbiamo ospitato Enzo Boffelli e ancora attraverso il teatro. Io ieri già ho aperto questa serie di incontri con un saluto, ma ben volentieri vedo delle facce nuove, quindi sono ben contenta di salutarvi e soprattutto sono contenta di potervi esprimere quella che è stata un'intenzione fortemente sentita, proprio quella di voler dedicare queste serate diciamo all'evasione e soprattutto all'evasione emozionale perché l'emozione a volte, scusami, l'emozione diciamo è sicuramente presente in qualsiasi forma, in qualsiasi momento del nostro vissuto. Però ci sono occasioni nelle quali bisogna fermarsi e bisogna quantomeno vivere anche comunitariamente diciamo quelle che sono appunto quella che è una dimensione interiore. Ognuno di noi a mio avviso di tanto in tanto deve poter avere il tempo di sbirciare dentro di sé e attraverso appunto anche degli stimoli forti. E la biblioteca in questo senso è opportuno che ne via, ne via attraverso la poesia appunto, attraverso l'arte, la fotografia, non dimenticavo di menzionare anche quest'altra forma. Io ho avuto modo di contattare o quantomeno di vivere l'esperienza del progetto culturale della nostra isola, quest'estate il Miramare Castello, lo dicevo anche ieri. Dato che in quell'occasione in maniera del tutto personale ho avuto l'opportunità proprio di vivere appunto questo momento di sensorialità, di veramente intimo, mi sono resa conto che ecco in occasione delle festività natalizie ognuno di noi deve poter vivere diciamo anche questa dimensione, quindi la biblioteca si apre anche a questo. Tra l'altro all'ombra della poetessa Vittoria Colonna che insomma per noi è un'occasione, insomma la biblioteca vuole dare stimoli sotto tutti i profili e questi sono presenti in grossa quantità all'interno di queste serate. Spero appunto in una successiva partecipazione, in occasione degli altri incontri e mi auguro che appunto per molti questa rappresenta un'occasione per poter incontrare appunto il fascino e battersi appunto nel fascino della biblioteca, nel fascino di un luogo che appunto attraverso diversi mezzi racconta un territorio. Il nostro territorio parla anche di poesia, parla anche attraverso le opere di Nunzia, Zambardi, attraverso le fotografie di Katia Massaro, per quanto è l'occhio appunto di un'isolana che va altrove, attraverso le ceramiche di Francesco Matera. E appunto lo dicevo ieri, la biblioteca è una cassa di risonanza e oggi sono contenta che possiate sentire appunto le vibrazioni che vuole trasmettervi. Io vi auguro buona serata e a presto. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il progetto La Nostra Isola, ideato da Bruno Mancini. E anche io, anche questa sera, voglio ringraziare nuovamente la biblioteca, nella persona della dottoressa Lucia Anicelli, per averci ospitati e per il fatto che appunto ci ospitterà anche nei prossimi giorni. Siamo qui per presentare quindi in anteprima l'antologia Ischia Mare e Poesia, praticamente la quarta delle antologie che abbiamo prodotto nell'ambito del nostro progetto. E anche questa sera, come ieri sera, presenteremo due nuovi autori. Ieri abbiamo presentato Nunzia Binetti e Luciano Somma e abbiamo fatto la conoscenza di anche i poeti delle nostre antologie con anche poesie di queste altre antologie. Oggi presenteremo interamente i poeti Ligalapinska e Franco Cadiz. E come ieri ci sarà poi un intermezzo in cui l'attore Enzo Poffelli ci entratterrà con un suo numero e avremo anche ospite, credo ospite se riuscirà ad arrivare, il direttore del golfo Pasquale Recalto. Vorrei un attimino ricordare la struttura dell'antologia che contiene autori che autosponsorizzati o sponsorizzati hanno già partecipato ad altre antologie oltre a questa. E poi con altre sponsorizzazioni abbiamo introdotto nuovi autori, abbiamo portato una nuova sezione in cui nuovi autori è stato possibile presentarli e farli conoscere. Ricordo che nei prossimi giorni ci saranno altri incontri di questo tipo domani all'Hotel Parco Verde, sempre qui a Ischia e sempre alle 18.00. e il 3-4 gennaio, qui ancora in biblioteca, e il 14 e 15 gennaio. Anche in queste altre occasioni presenteremo nuovi autori della nostra autologia. Vorrei fare un particolare ringraziamento all'autore della locandina che ha dato notizia dei nostri incontri, Salvatore Montola, che credo abbia fatto un ottimo lavoro. A questo punto passo la parola a Sascha Sabastano. Benvenuti, grazie di essere intervenuti anche stasera. Il mio intervento sarà telegrafico, nel corso della giornata di ieri ho fatto più volte riferimento al futuro del progetto della nostra isola. Credo che si possano venire tutti su un punto, cioè abbiamo davvero tanta tanta carne a cuocere. A partire dall'amicizia con un regavante numero di artisti stranieri, che è il primo passo verso la realizzazione di antologie purilingue, con annesse traduzioni delle opere dei nostri stessi artisti, quindi in altre lingue e in altri idiomi, alla creazione di forma tradiofonici e televisivi, in grado di veicolare la nostra contenutistica presso un pubblico potenzialmente sconfinato. Dalla comparsa dei nostri lavori sui cataloghi di colossi internazionali come Google Books e Amazon.com, alla nascita di una rete nazionale di autori e personalità facenti parte del nostro progetto e spesso del nostro direttivo. Il punto è che di idee e piani, sul punto di spiccare il volo, ce ne sarebbero tanti, così tanti che a volte temiamo di non avere le forze sufficienti da poter portare ogni cosa proprio in giusto termine. E questo perché siamo soli, e guardate che questo non è un lamento, ma è una mera constatazione. Ad oggi, dopo quasi un lustro ininterrotto di attività, nessuno dei rappresentanti della classe politica isolana ha mai voluto spendere una parola, un messaggio, con un centro di assenso verso questo che è il nostro lavoro. Un silenzio assordante, secondo me, inspiegabile, in grado forse, se non fossimo tutti così tessardamente ottimisti, a far venire voglia di gettare la spugna, ma non è ancora questo il caso. Per esempio, la nostra Roberta Panizza è stata subito cooptata nella Commissione Cultura del proprio Comune di Appartenenza, anche in considerazione del suo contributo come direttrice artistica del nostro progetto. Invece è curioso constatare come a volte le differenze sociali tra comuni e tra aree geograficamente distanti possono anche notarsi da cose così piccole. Da noi invece, nella nostra ischia, perché noi siamo ischitani, quasi tutti ischitani, siamo ancora ignorati da chi di dovere, un po' considerati al massimo una storia di una piccola curiosità della domenica. Non importa, non importa, il nostro sogno è vedere un giorno i nostri sforzi ripagati, che la nostra isola diventi prima la nostra Napoli e poi la nostra Italia, magari, dandoci modo di trasformare a livello nazionale l'esperienza accumulata nella valorizzazione di pochi artisti di ogni tanto e di orientamento culturale. L'assenza totale del sostegno da parte delle istituzioni, come detto, rende il tutto un po' più difficile, esposta un po' più su, da proverbiare a sticella. Ma noi ci crediamo e continueremo a crederci. Pensiamo già da ora ad una serie di iniziative di impatto fortissimo, al cui l'ospetto sarà impossibile per chiunque restare differenti. Pensiamo ad esempio ad un deciso potenziamento della nostra sezione pittorico-fotografica, all'insediamento di personalità eccellenti all'interno del nostro obiettivo, oppure, ed è un'anterrima assoluta, vista che dividiamo, ad un concorso poetico dalle modalità assolutamente rivoluzionarie, che conterisce in potenza 8 milioni di votanti. Non avete sentito male, 8 milioni, cifra a 6 zeri. Come è possibile? Dateci tempo. Continuate a seguirci, continuate a dare fiduci nuovi, che per lo scorso saprete molto presto. Di certo, e vado a concludere, fare tutto da soli è molto più difficile, richiede tempi molto più lunghi, ma è anche vero che l'inevitabile vittoria finale che ci aspetta sarà a parimenti molto più dolci. Grazie. Leggiamo la prima parte delle autrici, Liga da Prinsca. Ma una volta c'eri tu questa autrice è nata e vive in Lettonia, nella città di Egava. È artista, disegnatrice e si dedica anche alla scrittura di poesie. Oltre alla lingua Lettonia e sua lingua madre, ha una buona conoscenza del russo e dell'italiano. E avviso del fatto che Liga stessa ha tradotto le sue poesie dal Lettonia all'italiano, poesie che sono poi state risistemate poeticamente da alcuni autori del gruppo, e effettuando delle libere interpretazioni delle sue traduzioni, quelle che sentirete. Sull'esistere, sulla poesia e sul senso del dedicarsi al suo dipingere al suo poetare, Liga scrive. È mia abitudine quando parlo poco dedicarmi alle mie tradizioni, scrivere, dipingere, e lo faccio quasi ogni giorno. E prosegue. Non credo che tutto sia già stato detto, già scritto, già visto e già fatto. Più sappiamo, più tanti misteri possiamo svelare. Aprisse al mondo la via all'eternità, chiudersi sbaglio il cammino, e conclude dicendo, i miei versi, i miei dipinti, sono forse solo un ceno della mia presenza tra voi, tra i vostri dei volti e le vostre spalle stanche. La certezza che ho provato a vivere, ad amare, a conoscere, la testimonianza delle mie esperienze, ahimè spesso non gradite, la prova dell'amore per questo mondo. Sentiamo quindi ora Liga la Pesca. Non ho avuto risveglio stamattina, l'occhio sotto la parte della restava chiuso, restava chiuso il sole sotto le radici, e l'oro contro è il cuore, passando, passando in tutta fretta. E forse il sogno, forse il tempo, ha guardato nello specchio dove mi trovo, ancora forse in te profonda, ancora più da te lontana, come la vega dalla Via Lattea. Splendevano trolazzanti gli orli dei loro abiti, nel ballo come stelle non miei, ricordo anzi dormendo forse il deserto, o forse la foresta. Le stelle vivono più a lungo delle anime, come i fiori si disfano più presto della neve. Non ho avuto risveglio stamattina, e non conosco un'altra eternità. Ninna, mamma, non si sveglio, Ninna, mamma, nella notte tuona la pioggia, qualcuno cerca Dio, altri la Dea Felicità, qualcuno ha fretta cercando un angelo, qualcuno ha fretta cercando la toilette. Tu dormi e sono in tutti i colori, come non si può in veglia, come non si può con me. Ninna, mamma, non ti sveglio, la mia canzone è silenziosa. Sono goccia dilugiata per lo stelo, per il vento. Un tempo nel buio, nelle notti d'estate, avevo il seno più bello. La mano salzava per incontrarti, i capelli profumavano di odore amaro, un po' per l'altro cielo, inoltre più vicino come il mare. Poi al mattino, ecco, farfalla sopra un prato rosso e puro. Io sono goccia dilugiata, io sono quella che non c'è. Ancora il canto di qualche uccello e qualche sera ancora viva. Verrà il buio, avvolgente e vivace, insieme a dischi di sole. Fino al mattino, crescerà tra le zone insieme all'erba e si bagnerà nella rugiada amara, attraversando panorami e confini. Si ergerà un invitato. Vado, calpestando speranze sotto i piedi, resta un fango e miserie. Vorrei mangiare ancora una volta il pane così buono come quella sera. Ancora fai di me un candido rama flessibile di mero, splendidamente, per poi riposarci nel sale e nell'argilla e rinascere come germogli di guercia. Ora leggiamo il prossimo autore, Franco Calise. Ma una volta c'eri tu Che sei passata in fretta Come un sogno Che avevi cancellato la tristezza Con le dolci pazzie della tua età Franco Calise è ordinario di Antromino nella bella Ischia. Vive e lavora nell'isola come Barman in un alberto di prestigio. Tra un impegno lavorativo e un altro si dedica alla poesia. Per i cedersi le ispirano le intense musiche dei cantoautori italiani di Andrè, di Gregorio, Uccini, Vecchioni e Fossano. Ulteriore ispirazione gli proviene dalla natura nella quale si immerge quando possibile insieme al suo amato cane. In tali momenti trova modo di coltivare anche la sua passione per la fotografia e per la pittura. Queste sono forme di espressione artistica molto consone agli splendidi paesaggi che la soveggiante natura dell'isola Dischia propone in tutti i suoi ambienti. Ogni angolo di strada, ogni crinale di collina e le ansie delle sue coste esaltano l'animo artistico di tutti i coloro che sono sensibili alla scintilla dell'emozione e del sentimento. Nel luglio 2010 è stata presentata presso lo termine Amare Castello di Ischia l'antologia poetica Ischia un'isola di di cui Carize fa parte. In tali occasioni hanno riscosso molto successo le sue produzioni poetiche che per i temi trattati hanno saputo toccare l'animo di tutti i presenti. Sentiamo quindi le nuove poesie di Franco Carize. Vorrei come si può naufragare ancora in occhi come si fa vibrare al suono della tua voce come non si capisce che se tu arrivi io posso ammigare in te forse dovrei tirare in un barca e farmi portare via dalla corrente ma certo non dovrei aspettarti nei sogni dove finisce il sentimento e comincia l'amore io ho sentito di te ma per ti potrebbe farmi male ma come può far male l'amore sì vorrei vorrei innamorarmi ancora una volta ma che dico cento volte vorrei finché ho fiato vorrei un giorno ho conosciuto una lagrima era in occhi come i miei per un attimo ho navigato in lei io già conoscevo quella lagrima avrei voluto asciugarla o meglio conservarla per poi regalartela insieme a mille sorrisi impotenza voglia di urlare ma dalla gola solo silenzio piedi bagnati da piogge nemiche vento che non mi pettina più e sonno che chiama altro sonno forza cercata ma ormai finita in gambe dolenti non ci sono più denti per ridere nei lacrime che fanno sangue l'amore è finito in troppi pensieri solo il silenzio mio amico e allora lo porto con me in spiagge che guardano l'orizzonte l'orizzonte di gabbiani che vanno in silenzi ormai eterni portoni 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 chiusi da chiavi silenziose come a scoraggiare il forestiero intruso scale che scendo per salire e su di esse ballare musiche eterne ma sento il profumo di acqua di mare la piazza che suona campane affacciati occhi di carcerieri con antichi segreti che si sussurrano di antichi amori fuori dal sogno e dentro il peccato bugie mai svelate portate a letto con sé ma il sognare è dolce come dolce questo sole ma mi sveglio apro gli occhi e vedo figura antica seduta sulla soglia e pensa ad amori che hanno bussato ma qui nessuno ha mai aperto la porta grazie grazie Katia mi chiamo magari un attimo l'itinerario e spostarci dal mondo della poesia proietteremo ora un filmato prodotto dall'associazione di Katia come dicevi di delle parole a tutti i guardi questo è uno spot che abbiamo fatto contro l'inquinamento del mare da buste di plastica vi ricordo che dal primo gennaio 2011 sarà bandito l'uso delle buste di plastica quindi vi pregherei di aiutare la natura ad aiutarci a vivere grazie a sovra vivere a vivere Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ho pensato. a tutti. la e a tutti. a tutti. la rappresentazione di da quando, il teatro europeo, è un'altra, comunità, il pericolo, e, è un'altra, a tutti. a tutti. e, se ne due, la poesia, ha cambiato, ha cambiato, ha cambiato, un'altra, è un'altra, si, è un'altra, gennaio, a tutti. e, da 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 tutti. , da tutti. e, da tutti. e, da tutti. e, da tutti. e, da tutti. , da tutti. e, 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 da tutti.